Mi faccio un rapo di questa cosa Ma tu scrivimi, io lavoro con le notizie La tua cosa è una notizia Lavori anche con il signoraggio bancario? Oddio, di nuovo Dai, quando è che si fai un bel sorriso con il signoraggio bancario? Inizio che imparate a distinguere, perché avete scritto l'altra volta che mi hanno fatto la cosa che ero delle Iene e non lo sono più da 4 anni Va bene, il pubblico lo ha scritto Quindi informatevi prima Quando li informerete vi risponderò Gli utenti hanno scritto, che vuoi fare? Ha scritto proprio quello che mi ha fatto l'intervista, ha scritto La Iena Sortino Ah, tu eri? No, ho scritto la Iena L'ha scritto uno di un altro sito Valla a vedere, quindi quando ti informa Nel video non c'è scritto così Iena Informati Vediamo, vediamo il video Se fai il giornalista ti informa Però se il video c'è ragione io vi fai un'intervista sul signoraggio bancario Se c'è ragione io che nel video non si dice questo No, non nel video, si dice nella pubblicazione del video Ah, io ho pubblicato solo il video C'è scritto guardate la Iena non risponde tutti Sì, le Iene Allora, se invece non c'è scritto ci colleghiamo adesso? Ci colleghiamo all'Internet e vediamo Sei preciso C'è questa? Ah, c'è proprio dei colleganti eh Contrario, sortino.com Cognome.no Va bene, non ne vuoi parlare, dai Tutto piccolo